La coppia dell'estate? Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono di certo la bomba del giorno, ma anche Gianluca Vacchi e Ariadna Gutierrez non sembrano scherzare. Stando i rumors, i due si starebbero frequentando già da un po', precisamente da quando Giorgia Gabriele avrebbe deciso di allontanarsi dal ricco Viveur. Lei è stata ex Miss Universo, viene dalla Colombia ed è una delle ragazze più belle del mondo, anzi dell'universo, come suggerisce il suo titolo. La foto è stata pubblicata sul social di Ariadna Gutierrez, adesso tutti aspettano un repost di Gianluca Vacchi che suonerebbe come una conferma. Ariadna Gutierrez è nata a Sinceleio, in Colombia. Studentessa, ha frequentato le migliori scuole a Baranquilla. Giovanissima, partecipò all'ottanta esima edizione di Miss Colombia 2014 rappresentando il Dipartimento di Sucre vincendo il titolo. Rappresentò la Colombia Miss Universo 2016, dove concorse per succedere a Paulina Vega, già Miss Colombia nonché sua cugina. Fu l'edizione della gaffe del conduttore Steve Harvey, che annunciò la sua vittoria ma, dopo l'incoronazione, fu avvisato dagli organizzatori che la fascia era stava vinta da Pia Ronzo Wurzbach, Miss Filippine. Chi se ne frega.